Salve a tutti ragazzi, sono Gabriel Ediman. In questo video parliamo seriamente della voce di Loquendo. Praticamente quella voce che è venuta usata nelle parodie, ma anche nei video vogliali, che questo è vero, ma c'è un problema. Il problema è praticamente che i comodi di questi video, che vengono utilizzati, non tutte queste voce vogliali, possono essere tutorial eccetera, ma proprio che la gente non piace questo tipo di contenuti non capisco perché. Perché non piace, nonostante sia usata anche la voce di dire, la gente piace, poi se si usa un video senza parlare colloquendo, la gente non piace. Proprio questa cosa sicuramente mi possono farmi stracere proprio le scatole, la minoia e del primo, è un casino. E mi turba l'assoluta mentale. Quindi ragazzi, spiegatemi nei commenti cosa avete conto la voce di Loquendo, spiegatemi subito cosa avete conto la voce di Loquendo, che è stata persa di non utile proprio la voce di Loquendo, ma potete usare altre voce per i video di curiosità eccetera. E quindi spiegatemi il motivo. Grazie a tutti, ciao a tutti.